Dopo mesi di silenzio, qualcosa inizia finalmente a muoversi sulla richiesta di messa in sicurezza delle sponde del Ticino, un'istanza partita dalle associazioni remiere che vivono quotidianamente i problemi del fiume. Giovedì mattina il sindaco Fracassi ha organizzato un sopralluogo sulla riva destra, nella zona del ponte della ferrovia. Oltre ai funzionari e dirigenti delle ferrovie, l'invito è stato esteso alle realtà del fiume. Hanno preso parte al sopralluogo la Battaglieri Colombo, la Canottieri Ticino, il Cuspavia, l'Associazione Mestoimburg, il consigliere comunale Daniele Travaini e Pier Vittorio Chierico. Il primo risultato ottenuto da parte delle ferrovie sarà la rimozione del legname depositato su uno dei piloni. Resta da definire il giorno dell'intervento. Si è inoltre discusso di un secondo tema più complesso, ovvero la rimozione delle macerie del ponte bombardato dagli americani nel 1944 durante la guerra. Un intervento su cui è stata mostrata però la volontà di dialogare. Sono numerosi problemi da affrontare e risolvere, come chiesto a più riprese dalle associazioni remiere del capoluogo. Nel corso del sopralluogo il sindaco Fracassi ha inoltre posto la questione relativa alla sponda a monte del ponte della ferrovia. La volontà dell'amministrazione è di sistemarla e metterla in sicurezza dopo i cedimenti registrati negli ultimi anni. In questo caso le remiere hanno suggerito di portare l'argomento nel tavolo tecnico avviato nei mesi scorsi in comune. Dopo questo primo passo formale il coordinamento delle remiere attende infine la costituzione del tavolo tecnico permanente, chiesto per affrontare con puntualità e condivisione i problemi che toccano il fiume Ticino nel suo tratto all'interno del capoluogo.